Oggi vi mostreremo l'unboxing della Dead Sec Edition di Watch Dogs per PS4. Procediamo con l'apertura e all'elenco dei contenuti della confezione, che sono la colonna sonora, la mappa di Chicago, il gioco, una steelbook, un artbook, un set di 3 spille esclusive, un set di 4 carte per la realtà aumentata, la statua di Iden Pears. Ricordiamo inoltre che i contenuti esclusivi di PlayStation sono 4 missioni extra per il giocatore singolo, che includono 60 minuti di gameplay, l'esclusiva tenuta bianca Dead Sec e un hackeraggio potenziato extra. Inoltre avremo, tra le ricompense, il tratto pilota esperto, tenuta Black Bice Royce, fucile d'assalto biometrico, bonus investigativo e un hackeraggio Bancomat potenziato. Grazie. 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 Grazie.